Disorienta i signori, Tavares, Bobo, scatto di Paolo Sousa, si ferma Bobo, Arthur, Paolo Sousa, di sinistro Bobo, controllo di Ricchi, sinistro e palla in rete, Boa Vista 1, Lazio 0, ha segnato Ricchi 20 minuti e 35 secondi, è scivolato Luzardi nel sensativo di controllo, Ricchi è stato agilissimo, ha controllato, si è girato, ha messo in rete schiazzando i marchigiani e dunque Boa Vista pareggia il conto, Vinter due settimane fa all'Olimpico, ora Ricchi, rivediamo. E' scivolato Luzardi, è rimasto in piedi Ricchi, che pur in equilibrio precario ha fatto centro, ha tentato anche di aiutarsi con il braccio destro, una strana conclusione questa di Ricchi, che ha spiazzato Marchigiani, la regia portoghese ci ripropone, c'è il legimo replay, ha colpito male con il sinistro, Ricchi. Artur anticipa vinta, Bobo, poi Bento, Artur, Ricchi, Artur si allarga, Artur contro Bergodi, interno destro di Artur, Ricchi e c'è il raddoppio, non ha sbagliato Ricchi, palla che è filtrata, arrivata sul sinistro del Migeriano, che firma il secondo gol suo e del Boa Vista, ed ora è durissima per la Lazio. Al nono minuto, Ricchi, implacabile, palla imprendibile, compostissimo Manuel José, che lascia trasparire quella che è sicuramente una grande gioia, rivediamo. Non è benvenuto Marlon, ha disorientato tutta la difesa con la Lazio, ha lasciato passare questa palla, ha sorpreso Luzardi, prontissimo Ricchi, niente da fare per Marchigiani, incolpevole. Non ci ha pensato su due volte, di prima intenzione, ed ecco la felicità del nigeriano Ricchi, nome completo Richard Zeddi Ongofiri, 32 anni. Boa Vista, 2, Lazio, 0. 35 minuti a distruzione della Lazio, per il gol, ovviamente sento tutti i miei altri che daranno il passaggio al terzo turno della Coppa UEFA.